Benvenuto al primo giorno di impara a meditare. La sessione di oggi durerà circa 10 minuti e nelle istruzioni ti presenterò un punto di focalizzazione molto semplice, il tuo respiro. Ricorda di scegliere un momento della giornata in cui sarai più ricettivo, dove puoi essere calmo ed in silenzio. Qualcuno preferisce le prime ore del mattino per iniziare al meglio la propria giornata, per essere più centrato e focalizzato. Altri invece amano meditare la sera, per rilassarsi e scrollarsi di dosso la frenesia della giornata. In entrambi i casi, prima di cominciare a meditare, è necessario prendersi un impegno con la propria pratica di meditazione. Quindi ora prenditi il tempo per onorare te stesso in questo momento. Ringraziati per aver compiuto questo primo importantissimo passo. Le istruzioni per questa prima pratica sono molto semplici. Sistemati in un luogo silenzioso e confortevole. Siediti nella semplice posizione a gambe incrociate e, se preferisci, appoggia la schiena al muro. Quando ti senti pronto in posizione, chiudi gli occhi. Esprimi l'intenzione di calmare il corpo. E ora, in maniera molto gentile, porta l'attenzione al tuo respiro. Prova per qualche istante solo a sentire il tuo respiro che avviene. Una volta che inizi a meditare, ti imbatterai in quello stato mentale i cui pensieri e le emozioni saltano da una parte all'altra senza un senso. Possiamo chiamarla la mente scimmia. Perciò, puoi notare che, mentre cerchi di concentrarti sul tuo respiro, la mente scimmia prova a trascinarti avanti e indietro, tra momenti e ricordi. Qualcuno più recente o qualcuno successo molto tempo fa. È normale che la tua mente si allontani e divaghi. Ha semplicemente bisogno di essere allenata a rimanere concentrata e focalizzata su una sola cosa alla volta. Impariamo a farlo in modo molto semplice. Torniamo ripetutamente al nostro respiro e al nostro corpo. Senti l'aria fresca che entra dalle tue narici e goditi la bellezza del momento presente. Appena senti che ti stai allontanando da questa percezione e stai lasciando le redini alla mente scimmia, ritorna gentilmente al tuo respiro. Bene. Ora sei pronto per portare tutta la tua attenzione dentro di te. Percepisci il tuo centro, il tuo petto, i tuoi polmoni. Assicurati che la tua colonna vertebrale sia dritta e distesa. Il retro del corpo è forte e ti sostiene, mentre la parte anteriore è distesa e rilassata. Ti stai dirigendo la percezione del respiro. Cerca di percepirlo, non osservarlo solamente. Vuoi entrare in unione con il tuo respiro. Vuoi fluire assieme a lui. Cominciamo quindi la pratica di oggi con un esercizio di respirazione che ti aiuterà ad essere radicato nel momento presente. Ogni giorno inizieremo questa tecnica di respirazione per iniziare la pratica. inspira attraverso il naso, riempiendo completamente i polmoni e poi espira attraverso la bocca molto più lentamente. Prova, inspira attraverso il naso, riempiendo completamente i polmoni e poi espira attraverso il naso, riempiendo completamente i polmoni e poi espira dalla bocca molto più lentamente. portando fuori tutta l'aria, portando fuori tutta l'aria. Ancora, breve inspiro attraverso il naso che riempie completamente i polmoni e poi espira lungo e lento verso l'esterno, attraverso la bocca. breve inspiro soffia il respiro verso l'esterno. bene, continuo ancora per un po', inspira ed espira verso l'esterno. lento verso l'esterno. inspira brevemente ed espira lentamente. inspira brevemente ed espira lungo e lento. inspira brevemente ed espira lungo e lento. e ancora inspira lungo e lento. inspira. 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 adesso, prova semplicemente a respirare al tuo ritmo naturale. ricomincia la respirazione al tuo ritmo. accorgiti solo che è una respirazione rilassata. senti come ad ogni ciclo di respiro il tuo corpo si espande, la pancia si gonfia, il torace si espande, perfino le spalle. ora ti lascio in silenzio per qualche momento in questa percezione del tuo respiro. concentrati sul punto del tuo corpo dove ti è più semplice percepire il respiro. e rimani in quel punto e ricordati l'intento della pratica. e rimani in quel punto e ricordati l'intento della pratica. ora ti lascio in silenzio per il tuo corpo, il tuo corpo, il tuo corpo di salto e ricordati dell'interprezione. e rimani in quel punto e ricordati, un sacro ghi expi e imponente di attivare il tuo corpo. infine in quel punto e ricordati. qual è ricordato della pratica. e rimani nella pratica. rocamente la patica. Adesso riporta l'attenzione al tuo corpo e nota come ti senti se la tua energia è calma. Riesci a percepire che c'è più spazio dentro di te, ti senti più leggero. Senti che tutto il tuo essere è più fluido? Ecco come si presenta l'allineamento, ecco come puoi nutrirti con gli strumenti più comuni e semplici, il tuo respiro e la presenza consapevole. Ora lentamente comincia a muovere il corpo come più desideri per risvegliarlo con piccoli movimenti dolci e lenti. Il primo giorno di impara a meditare è giunto al termine. Quando ti senti pronto, riapri gli occhi lentamente e osserva la tua presenza anche tutto attorno a te. Ma al mano che ti addentrerai nella pratica, ti sentirai sempre più a tuo agio con la meditazione, con lo spazio e l'immobilità dentro e attorno a te. Nel tempo, rilupperai la facoltà di avere sempre meno distrazioni. ci incontriamo per la pratica di domani. Namaste non 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 Grazie a tutti.